La squadra Euro IAC New York IAC New York scenderà in campo con il numero 1 Giannini con il numero 2 Le Piccolo con il numero 5 Gabrielli con il numero 9 Neistain con il numero 10 Brisco con il numero 11 Conate con il numero 13 Fofanà con il numero 14 Diara con il numero 22 Balsamo con il numero 32 Linn con il numero 77 Ghiata a disposizione del mister Joe Balsamo con il numero 12 Culas con il numero 15 Brata con il numero 6 Metrevelli con il numero 30 Fidash con il numero 8 Galeotto con il numero 4 Isenagoli Henry con il numero 17 Isenagoli con il numero 19 Casperuc con il numero 16 Nictas Yanis con il numero 23 Nictas Demetrius con il numero 18 Sanchei con il numero 7 Servisi con il numero 20 Vilcini Parma gli unici che scenderanno in campo col numero 22 Bragheria col numero 2 Eccone col numero 5 Urbane col numero 7 Casa col numero 10 Camara col numero 16 Lugli col numero 20 Pelle col numero 21 Montipò col numero 25 Monti col numero 26 Chiacchio col numero 27 Rocchi a disposizione del mister Pasquale Catalano col numero 1 Corvi col numero 3 Vecchi col numero 4 Valoia col numero 8 Tardivo col numero 11 Quelei col numero 13 Franson col numero 14 Davetti col numero 15 Bisagni col numero 17 Poturi col numero 18 Tobola col numero 19 Canalicchio col numero 23 Madonna col numero 24 Prigliasco col numero 21 No, they're going in.